E' il tuo cavasino, eh? Ecco, guardate! C'è ancora tutto? Sì, 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 sì. Forse no! Guarda la tiratura! Sì, 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 sì! Ma che stupibile! Eh, ma... Questo uomo... No! Ma no! Ma no! Ma guarda la faccia! Ma no! Ma cosa brava? No! Ma! Ma la, ma la, ma! Ma la, ma la, ma la! Ma non, ma non, ma la, ma la... No va non, ma... Ma, ma! Ma... Ma.